bello a tutti altri game, bentornati a un nuovo episodio per un seguito di Ayamond come al solito se vi piace mettete like, iscrivetevi e commentate ogni tanto commentate e vi porto, vi porto, vi porto, vi porto un bello Udyrmato JK, adesso mi è Udyrmai Volibear vi porto Volibear perchè non l'ho visto proprio più Volibear però dopo i... allora è stato baffato innanzitutto il macete con la nuova giungla non vi fate ovviamente i campi, i raptor non ve li fate mai però i cracks ve li fate bene e in più secondo me col Colossus è molto buono perchè comunque è un gc abbastanza facile da tirare giù è molto tank i Voli, secondo me potrebbe tornare alla grande Volibear mi piace proprio, quindi ve lo voglio far vedere perchè secondo me c'è la potenzialità ah, ragazzi, come vedete abbiamo iniziato con degli LP in meno questo episodio perchè purtroppo il primo game l'avevo registrato in 1080 un game però laggava continuamente eccetera, ho dovuto buttare via la registrazione e è un game perso, un game con i relli ha perso quindi ragazzi, purtroppo c'è un game in meno il replay ve lo potete vedere comunque oh brah che era? Queen of the Carry che mi ha fatto sta cosa? buvo la nuova giungla si regge molto bene Voli, ma molto molto bene adesso a me quello che mi piace fare, lo sapete è farmi broccare la cura e poi dopo iniziare a curarmi perchè se no il game non ha sfruttato la testa passiva e a me piace sfruttarla non fa molto danno all'inizio W però beh, è normale 69 però qua dovrebbe fare 60 più ah perchè non c'ho bonus health ancora beh si, allora ci sta e così abbiamo sfruttato la passiva oh my god qua iniziamo male don't have VL ah, c'è l'exus sto coglione interessante sta cosa abbiamo usato il nostro Greensfather Gift questo lo possiamo smidare anche perchè ci abbiamo vedete il cooldown se ne carica pure il secondo stack e ce l'abbiamo io direi che continuiamo ancora un po' di solito prendo il ghost su sto champion però stavolta c'era stavolta ho visto che c'erano un sacco di champion in cui dovevo flashare le skill tipo c'era, che ne so c'era sta Zyra c'è Cassio che mi è boffata W e la posso flashare prima che la faccia e cose del genere e in più c'era pure Queen l'acqua posso flashare sta roba qui quindi ho deciso meglio prendere meglio prendere il flash anziché il ghost allora qui purtroppo non posso cancare niente tra un po' abbiamo in nuovo carica la passiva direi che ci possiamo fare è meglio se sentite in sottofondo aspirapolvere però già è mia mare che sta pulendo ci facciamo questo qui e il coso lo evitiamo il tizio qui lo evitiamo oh brah qui che c'è c'è niente non c'è niente purtroppo non possiamo cancare perché sono tutte pushate le wave anche la bot perché anche se sta perdendo riesce a pushare il campo questo qua non vi consiglio farvelo i raptor piuttosto provate a invadere perché con questo champion è praticamente impossibile a meno che non avete il seno un'ultate ma troppo troppo lungo da fare ci sono io non lo faccio andiamo a farci questa giungla oh ha fatto una kill e sono e sono anche stati cancati quindi so good boys so good oh 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 bronzi questo che è me conosce sa che sto registrando non lo so bravo il meteo e qui non posso cancare quindi continuiamo a farmare c'è senso andare lì e sprecare tempo no non potete cancare fate qualcos'altro allora qui abbiamo fatto un altro camp cosa a quel livello sta al 5 pure come fa averci letta a farmi in più di me ha farmato un po' la lane poi possiamo fare qualcosa perché abbiamo il flash buono così basta buono abbiamo ammazzato quella c'ha 30 minima perché lei si può fare pure pure raptor cioè si fa speed però apri non multa tanto tra un po' avrebbe esserci no via non è il caso di fight questo ce lo possiamo fare invece abbastanza fast ok good questi sono morti in 2v1 ovviamente stammerdinger mi sa sta un po' trollando la passiva già l'abbiamo usata ci salvo un po' di vita ci salva al più presto l'item item da giungla qua abbiamo la bot lane che è strafida overfida questa zaira 4-1 tutte le morti ce l'ha la bot lane per farvi capire e questo me lo faccio dei ulti subito instant tanto devo andare back poi ne faccio pure il red che non è spawnato ancora faccio un po' di giungla in generale ma si 1-2-3 allora tra quanto spawn in red 3-2-1 ok lei basta per shottarli a questi qui no ok e questo pure prendiamo il green sfatter gift possiamo andare top adesso volendo prima di andare back anche perchè abbiamo la passiva back quindi ci sta si può fare finchè la wave è pushata la lascia prezzare cioè boh non ha nemmeno ultato ci ha rinunciato proprio ha detto non è il caso vabbè dai ci sta boom 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 andiamo ai cattiveria ce la facciamo a prenderla speriamo mid è morto in 1v1 però è una cosa abbastanza close ce la facciamo a prenderla questo è molto good pure lo sbloot tower instant questo gli dip in faccia e poi dice ah sono morto è un lucky mid vai proviamo no no pensavo venisse diana invece no io ho paura che lo ingaggi deve andare via vabbè vabbè se lo ingaggia fa solo allora allora prendiamo questo scarpe contro i cc facciamo perché ne hanno tanti infatti Darius è morto gliel'ho pingato andare via lo stanno perdendo tutti 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 top top ne ha buttato nel cesso il vantaggio che gli ho dato con quel gank praticamente perché si è fatto uccidere uno via uno più tardi boh io non so se sarò abbastanza rosso da carriare penso di riusciarmi subito la visage perché hanno molti ap e su bolly scala molto bene come item quindi mi faccio la visage preso questo ci vedono mette ci vedono abbiamo il coso addosso che adesso non ci vedo più però ha portato qua non è buono per niente arrivo 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 ok uno è morto questo pure è buono speed ok buono adesso ci possiamo fare pure l'inferno anche perché poi cosa se lo fa abbastanza fast con rise te fai tutti gli obiettivi abbastanza fast è un po' come nagassiopeia good good questo è buono con questo dovremmo avere abbastanza soldi per farci la visage penso comunque stiamo facendo molto bene considerando il team che ha buttato nel cesso un sacco di cose lui non ha fatto qualcosa solo è il raid che aveva fatto una kill e poi però è morto due volte instant buttando nel cesso tutto il vantaggio non so se riesco a fare qualcosa mi conviene andare back per caso è un v2 questa ma rilasciotta però posto così ho usato il flash va bene f good 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 sta andando molto bene adesso abbiamo ho la mid sta vincendo bene o male abbiamo dato un po' di vantaggio a tutte le lane nella top lane gli abbiamo dato qualcosa che è importante pure buono darius good adesso sta recuperando quindi stiamo messi piuttosto bene adesso però ci serve ci andiamo a fare il red qua l'hanno gancati però gancato qui capite cioè vuol dire che ti ha peccato con la Q è inutile che pinghi pezzo di merda colpa tua fine ringa capito non è che merdinga sta a fa schifo pare che stia trollando però almeno mi prende le ward quindi mi va più che bene eh non c'è nessuno metto adesso arrivo se arriva qualcuno arrivo pure io siamo a due torri a due torri max o la Q per seconda perché così mi da più speed quando rincoro gli avversari e fateci fa sto obiettivo cazzo stiamo facendo un herald sneaky sneaky ma prendo io ma va niente è l'ho di buono morire una mano questa ha flashato viene arriva al ciò più speed ci arrivo non dovrei paveri ma non per usare nulla e invece buono preso andiamo dopo ciò facciamo penso si oh togliete oh che cavolo è stava venendo qui sei andato a fare il loro blu ma cosa ma che cavolo ma che cavolo ma che sta con la testa questo tranquillo sei andato a fare il blu speriamo che sta web se la perdano ma cosa sa che arriva qua hai pinged you away ma ha pingato I'm on the way ha pingato o forse ha pingato il blu ma che cavolo cioè c'è una chi lì c'è un cavolo di trinda che possiamo shottare c'è pure tutta la wave sotto la tua torre e lui ignora cioè preferisce farsi il blu loro non lo so ah raffreddore non so che c'è nella testa a ste persone non lo so non lo so con questo colosso sei molto più tanki sto champion ma molto molto più tanki qua c'è un altro inferno al che vorrei a me basta che mi farmate sta wave dai oh ma pinga che ci va e poi va via ditemi se io non se va incazzare vabbè 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 uscio io posso stare i comodi l'aspirapolvere che meraviglia l'aspirapolvere si sente si sente bene spero qualità 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 l'aspirapolvere ok abitato la ultima buono 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 go go top Darius Darius ci chiude il game niente qua non mi aiuta nessuno al drake e là se stanno a chiudere il game vabbè Darius go top trinda sta chiudendo il game guarda tu mi toccano da me guarda se non ci vado io lo chiude il game praticamente vediamoci questo e facciamoci iniziamo a farci ad esempio in plat ad esempio in plate niente ha chiuso tutto ha preso due torri e se non fosse andato qui avrebbe preso anche una terza ma vabbè a parte non ho preso una giant belt ottimo prendiamo il resto red il problema è che ci vuole che Darius rimane top perché se no 30 mer si fa tutto allora questo qua non me l'ero comprato alla fine compriamocelo adesso dobbiamo essere belli dancosi intanto i danni base ce li avete anche cioè più HP vi fate più danni fate Darius stay top or trinda ends the game non è per cattiveria ma è quello che succede se non stai top cioè allora qui stiamo 11 a 14 buono eh ho farmato un sacco stavendo chiusa adzman play 8 penso mi farò qualcosa magari altra magic rest no ho uno sterac mi serve qualcosa che mi dà anche che mi dà anche danno quindi penso uno sterac non lo so o uno sterac oppure un frozen mallet che mi dà anche non lo so non lo so ... chi c'ha già messo la cura? chi c'ha lì da me messo la cura? vabbè vado a cleararla io perchè sennò non clira nessuno sta questa tanto qua se la stanno cavando a stiggiare prossimo trick quello lì buono così, bravino Ryze è fiddato comunque infatti si sta facendo la build di Ryze di 80 anni fa quella full mana però vabbè dai frozen earth glielo approvo finchè frozen earth glielo approvo glielo approvo glielo approvo, glielo approvo lo lascio perchè sta fiddato e il blu gliela ha AP quindi glielo lasciamo e ora ci serve un item da danno forse è uno sterak forse anche delle resistenze aggiuntive però... devo fare un po' di danni magari un netteriniti potrei farmi per shuttare vai via vai via ok 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 perciproccare la la cosa passiva che adesso non è il caso la cosa positiva è che abbiamo preso praticamente tutti i drake quasi tutti no tutti e appena spunati quasi molto velocemente quindi abbiamo un bel vantaggio grazie a sti drake il drake il drake mi serve? non ho lo smite purtroppo attualmente a zero si è fatto il gauntlet e ci serve per kaitarli eccetera anche non è meno ad carry con la Q di skishot li sanno tirare tutti bene o male cioè linea massima tirare skishot è una cosa abbastanza base allora andiamo back ci prendiamo questo qui dai ok e poi vediamo forse ci facciamo una titanic per avere più danni anche lo sterak mi farebbe comodo ehi abbiamo lasciato c'era l'occasione per farcela per farcela ma avrei deciso di non farlo prossimo drake un altro infernal quello ci serve pure questo è il momento di fightare questo è il momento di fightare questo è il momento di fightare Bruccata la passiva, oh oh oh, good, good. Ce ne andiamo, ciao ciao. Ciao a tutti. Ma è meglio pushare, come faccio a farci il baron senza di carry? Abbiamo solo Darius e l'abbiamo. M e non è proprio il massimo della salute per farci il baron, insomma, due tank. Forse ne faccio lo stair hack, perché ho visto che mi bastano un sacco. Ma sì, facciamo questo stair hack. 2007, eccolo qui. Ah no, gli hanno pure abbassato il costo. What? Che pizze che tira. Mi serve sto stair hack. Allora, ci facciamo altra magic resist anche perché c'è G-Shot. Una GA ci possiamo fare, ecco che ci possiamo fare. Anziché sta qui, anche lo Zezzeroth, però forse è meglio la GA. La GA, la GA. Costa di meno. Tanto lo Zezzeroth è un po' tardi per lo Zezzeroth. Meglio la GA. Il problema è che ho spregato il flash e mi serve il flash. 666, ah ah ah, sadanico. Dobbiamo puntare a prenderci st'infernal. C'hanno 3 AP e Darius si è buildato solo armor. 3 AP c'hanno. E 3 AP che shottano. E sta a livello 15. Ok, ciao a buccia, ma non mi va a baurà. Ok, ciao a buccia, ma vara. Non ho lo smite, però è l'unica chance. Ho smite di W, che ne sa. Ho preso il bar, nice. Di autoattacco dopo la W, tipo. E' rimasto 30 HP. Era questione di una piantina di Zyra, proprio, che gli è partiva l'autotacco stravico e stavamo nella merda. E invece... Ha funzionato. Sbriamo, 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 sbriamo. Sbriamo, sbriamo, sbriamo. La faccio? Ma la faccio. Eh, mi ha tirato il critico della muerta. Comunque la torre l'abbiamo presa. E a me mi va bene. Ah, sui... Gli ho dato un po' di... Un po' no shutdown. Ma leggermente. Non si sa il bugio che sta facendo sto tizio. Cioè, si è fatto il vecchio Ryzen, in pratica. Però vabbè, sto funzionando, quindi. Quasi. Dai, dai, ci sei. Ok, buono. Dai, che tra un po' ti spiego come funziona. Dai, ci sei. Ottimo, così. Usare l'exhauster rigorosamente alla fine del busto. L'avessi usato prima avrebbe uscesa. E invece... Ecco, anziché fare E, W, Q. Ha fatto W e Q strabica. Cioè, si sono fatti uccidere tutti. Io già ho preso una torre. Però vedete, non me le devo fare uccidere. Perché se no, vedete, succede. Dai, questa io la lascio. E, Zerial ha usato l'exhauster alla fine del busto. L'avessi usato all'inizio si sarebbe salvato. Anzi, avrebbe pure ucciso Diana. Perché tra la stile è tutto. No, l'inferno se lo fanno loro. Dobbiamo cercare di cautare qualcuno. Lo scudo... Allora, siamo belli tranquilli. Adesso abbiamo pure la GA. Qui abbiamo più armor e più magic resist rispetto a prima. Qua dipende tutto da un fight. Ok, c'è la Zezeroth. Quindi c'è un po' di magic resist. Più il potere della vita che è. Non è da meno. Bisogna ricordarselo. Ok. Questo è un brutto fight. Siamo in 4v5. Qui dobbiamo difendere. A tutti i costi. Un po' di scudi mi sono andati giù. Tanto la Zezeroth fa il suo lavoro. Noi stiamo difendendo bene. Quindi va più che bene. Speed. E da questa cosa loro non hanno preso nulla. Fortunatamente. Perché lo Zezeroth sta pushando hard. Possiamo provare a cautare qualcuno adesso. Ok. Ovviamente come al solito. L'exhaust è rigorosamente alla fine del bust. Non ce la facciamo pushare qui. Non ce abbiamo i minion. Che facciamo a pushare lì? Che i minion stanno... Cioè non esistono. Sono morti già. C'è una miranda back. Ma so. Mannaggia. Non siamo riusciti a prendere nulla. Perché purtroppo ci hanno... Li inhibitor. E sono... Sono belli rossi. Questo ancora non c'è la Runet King. C'erano i super minion. E non abbiamo potuto prendere nulla. Perché le wave non erano pushate abbastanza. Ah ah. Zezeroth è morto per invì. Morto di vecchiaia. Va benissimo. Non freghiamo i minion. Che tanto siamo full build. Vabbè Zerial però. Una QE l'ha shottato. Però non c'ha resistenza. E quella è fiddata. Teoricamente Zerial non avrebbe mai un QV. Che è il QV. Quindi... 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 zezeroth. Ah, quello se lo so fatti. Oh! Oh my god. È questa la vita reale? La prima cosa bella che è successa Mamma mia Questa è enorme ragazzi Questa è È the code Questa Li distrugge psicologicamente Mamma mia ragazzi Mamma mia Questa c'è la zonia Lei no però Buono 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 Questo è enorme Non pensate male Va bene così A noi va benissimo Ok nella passiva già l'abbiamo usata Però anche lo starach abbiamo usato Prendiamo due inhibitor Ok Forse prendiamo anche qualche torre In inhibitor Ci va bene Ma sì Funziona sulle torre Sì Dai ci abbiamo lo starach No non ci abbiamo lo starach Vediamo la GA Bene 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 Basta basta Go back Ci siamo Ci siamo Go back Non morire Go back Per favore Premi B Premi B Grazie al cielo Allora questa qua Non penso ci avremo più tempo Di usarla Penso che il game Finirà prima Quindi È meglio se ce la prendiamo Ci possiamo fare il glory Non ci dà resistenze Però non ci dà resistenze Facciamoci lo zezerot E ci ha le stesse resistenze Più o meno Della Della GA Con più la passiva In pratica 55 e 55 Invece la GA dava 60 e 40 Mi sembra O 60 Sì 60 e 45 Ma come fa Hanno missato Ezreal è la Q Lui la W L'hanno missate Su un bersaglio fermo Non lo so Ma il rez è bello Dancoso Perché con questa build C'ha resistenze C'ha C'ha un sacco di mana Anche Aspetta Wait Rez C'ha un sacco di Accoli Un sacco di Un sacco di Non morire, per favore. Niente, qua non dovevo stare qui. Dovevo dire, aspettare 0 e basta. Comunque i supermian si fanno la torre, penso. Però non basta. Qualcosa non me lo rego, prima cosa. Nexus is open. Poi non ci basta, devo pushare e basta. Questo non dovrebbe avere la ulti ass. Mamma mia, mi ha grittato. Niente, non posso farmi un ovvio, non ho sbagliato anche solo a provarci. Non c'ho ancora lo Sterak e poi non basta, cioè me buon hit anche senza la ultima. Non c'ho, cioè in realtà ho molta armor, però lui c'è la Swisper, quindi è inutile che faccia ste cose. Sto sbagliando, sto sbagliando e non va bene. Sto sbagliando, sto sbagliando. La top è solo push. Non tanto, pushate la top che è sicura. Buon, 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 buon. Buon, buon, buon. Ok, possiamo chiuderla. Chiudiamola, chiudiamola. Mamma mia, ragazzi. Un quadrino e marzini non ho ultato. Ho fatto degli errori qui, però... Cioè, che cazzo le bottele non ci avevamo? Cristo santo. Anche la top è che è morta in un ovvio. Puoi per fortuna recuperare. Comunque sto coso tanca un bel po'. Il problema di sto game, ragazzi, è stato che avevano i danni splittati benissimo. Cioè avevano due AD carry, cioè due carry AD comunque, e facevano un sacco di danni AD, molto fidati. Avevano pure il mid laner e il jungler e il support, che erano molto fidati e che avevano danno AP. Quindi non mi sono potuto concentrare solo su una serie di resistenze. E non mi potevo fare né trin, né nessuno in 1v1, perché... Me shottavano, praticamente. 33k danni con un full tank, praticamente. Praticamente, praticamente. Ragazzi, come al solito, se la serie vi è piaciuta, se il video vi è piaciuto, lasciate like e iscrivetevi. C'è Twitch e Facebook, c'è un sacco di roba in descrizione. Mamma mia, che faticaccia. E bella a tutti i dati game. Bella.